Secondo esercizio, due due, due colpi per mano, due di destra, due di sinistra, sempre usando il full stroke, quindi partire dall'alto e tornare in alto, iniziamo colpi doppi, rullo a colpi doppi, due due, due colpi per mano, sempre usando il full stroke come tipo di movimento. Terzo esercizio, combiniamo i colpi singoli con i colpi doppi, si chiama paradidol. Funziona in questo modo, avremo un singolo, un singolo e un doppio. A questo punto ci ritroveremo con le mani girate, ripartiamo con la sinistra, stessa identica figura, singolo, singolo, doppio e a questo punto ricominciamo con la destra. Funziona in questo modo. singolo, singolo, doppio. Singolo, singolo, doppio. Singolo, singolo, doppio. Singolo, singolo, doppio Proviamo ad usare la voce su questo rudimento che si chiama Paradidol Il nome è onomatopeico Molti rudimenti hanno i nomi che richiamano il suono del rudimento stesso E ci aiuteranno a suonare Proviamo Semplicemente sopra l'esercizio pronunciamo il suo nome Così Pa-ra-di-dol 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 Quindi Pa-ra-di-dol E ricominciamo con la sinistra Pa-ra-di-dol Questo ci aiuterà tantissimo Perché l'esercizio diventerà musicale forgivenesse dijericzio Mechanicale They're the also Booke to di When are you the adjacent to each other and you can't come with a camera. I'm on Casa and themi